Ha ancora senso incorporare una società a Singapore, a Hong Kong oppure a Panama? Ha ancora senso in una parola utilizzare i paesi a tassazione territoriale per incorporare società tipicamente offshore che non tassino mai e per nessun motivo il reddito di fonte estera? Bene, ve lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglieratela e oggi parliamo di paesi a tassazione territoriale. Devo dire che sull'argomento ho prodotto innumerevole materiale per cui ti rimando al blog di soluzionez.it se vuoi approfondire l'argomento o troverai degli articoli interessanti anche sul mio profilo LinkedIn Luca Taglieratela, qui appunto ti rimando. Qui voglio fare il punto però soprattutto per tutti quelli che tendono ingenuamente a credere che i paesi a tassazione territoriale siano la chiave di volta per sciogliere un qualsivoglia nodo gordiano. Cioè pensano che incorporare una società banalmente a Hong Kong piuttosto che a Singapore oppure in qualsiasi altro paese a tassazione territoriale e perfino nei paesi non DOM che invece sono prettamente paesi europei pensano che in questa maniera tutto il reddito che viene prodotto all'estero non viene tassato mai e per nessun motivo. La notizia diciamo clamorosa per chi mi ascolta è che non è mai stato così, non lo è stato in passato, non lo è in questo periodo storico e lo sarà sempre di meno nel periodo futuro per i motivi che andremo a ennucleare tra un attimo. I paesi a tassazione territoriale tipicamente sono quelle giurisdizioni che detassano, o meglio esentano una tassazione, il reddito di fonte estera. Ora però bisogna intendersi appunto su questo, che cos'è un reddito di fonte estera? Perché vedi il più grande elemento di confusione nasce proprio dall'interpretazione, dalla qualificazione di reddito estero. Molti sono portati a credere che per reddito di fonte estera si intenda che la fonte del reddito vada identificata all'estero ogni qual volta il pagamento provenga dall'estero. E quindi ingenuamente molti sono portati a credere che il reddito estero, se il pagamento, arriva da un paese che è al di fuori del territorio in cui ho incorporato la società. Quindi tutto quello che viene fuori da Panama, fuori da Hong Kong, fuori da Singapore, una volta che l'ho riportato all'interno della mia sede legale, della mia cassaforte, della mia società, non viene tassato. In realtà il concetto di reddito estero sarebbe più da identificare con il luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Quindi abbiamo luogo da cui proviene il pagamento contro luogo in cui è svolta l'attività produttiva. Vedete che la situazione cambia diametralmente perché è molto più probabile che quella giurisdizione identifichi il reddito di fonte estera il territorio in cui non sono localizzate le attività produttive. Mi spiego immediatamente con degli esempi così ve la rendo anche più facile a voi. Allora, dobbiamo distinguere tre fatti specie. E cioè, dobbiamo considerare che questo reddito di fonte estera potrebbe venire da attività di business, industriali, commerciali, legati alla presenza di una stabile organizzazione all'estero. Potrebbe invece darsi il caso che non ci sia una stabile organizzazione all'estero, come per esempio nel caso dei servizi prodotti o prestati all'estero. E numero tre si potrebbe invece parlare di passive income, dividendi, interessi, royalty, reddito allocazione immobiliare estera, eccetera eccetera. Quindi analizziamo queste tre fatti specie e cerchiamo di capire quando il reddito è da considerare estero e se la giurisdizione che stiamo prendendo in considerazione, quindi Panama, Hong Kong, piuttosto che Singapore, tassano o non tassano questo reddito che proviene dall'estero. E partiamo chiaramente dalla prima situazione. Ho una società a Hong Kong, sto producendo reddito di fonte estera per il tramite di una stabile organizzazione incorporata in un paese dell'Unione Europea. Che cosa si intende per stabile organizzazione? I fruttori di tax planning internazionale lo sanno da un commentario. Ho se tendenzialmente una stabile organizzazione è una base fissa d'affari attraverso la quale esercito la mia attività di impresa, piuttosto che un edificio, un progetto, un cantiere che dura temporalmente per un numero di mesi che tendenzialmente può andare da 6, da oltre 6 o oltre 12 mesi per poter configurare una stabile organizzazione, oppure il stabile organizzazione personale può essere costituita da un agente, cioè se io ho un dipendente o in qualche modo una persona che mi rappresenta come società all'estero. Quindi questi sono tutti i casi in cui si configura la presenza di una stabile organizzazione all'estero. In questo modo se il reddito proviene da una di queste stabile organizzazioni, cioè prodotto per il tramito di una di queste stabile organizzazioni, tendenzialmente la fiscalità internazionale ci dice che questi redditi sono tassati sempre nel paese dove è costituita la stabile organizzazione. Quindi abbiamo un reddito di fontestra, una stabile organizzazione, il paese che ospita la stabile organizzazione tassa questo reddito. Che cosa può succedere? Esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra il paese dove si trova la sede legale dell'azienda e il paese in cui si trova la stabile organizzazione, se esiste una convenzione e allora viene eliminata qualsiasi problematica di doppia imposizione, perché la convenzione attribuisce tutte le volte l'esclusività del diritto impositivo al paese in cui si trova la stabile organizzazione. Quindi il reddito estero è tassato all'estero e solo all'estero. Lì dove non c'è una convenzione si rischiano invece casi di doppia imposizione, perché sia il paese della sede legale sia il paese della stabile organizzazione potrebbe decidere di tassare questo reddito e quindi si ingenerano problematiche di doppia tassazione. I paesi a tassazione territoriale, che sono quelli di cui parliamo oggi, invece che cosa fanno? Esentano tendenzialmente il reddito estero legato alla presenza di una stabile organizzazione, così risolvendo tecnicamente il problema una volta e per tutte. Quindi questa è la caratteristica, la casistica più semplice. Se voglio utilizzare una società in una giurisdizione a tassazione territoriale, è una buona idea, lo vedremo anche in seguito, per pensare alla costituzione di una stabile organizzazione nel paese in cui ho necessità di espletare alcune delle mie attività operative. Tanto so che questo reddito verrà tassato solo e soltanto una volta, anche se non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, diciamo, e questa è la caratteristica, il plus di utilizzare un paese a tassazione territoriale. La seconda caratteristica, la seconda fattispecie invece di reddito estero, è quello legato invece all'assenza di una stabile organizzazione, che cosa succede se incorporo una società a Panama, incorporo una società a Hong Kong, incorporo una società a Singapore e presto i miei servizi all'estero in altri territori, per esempio sul suolo brasiliano, piuttosto che sul suolo croato, piuttosto che sul suolo indiano, eccetera. I servizi prestati all'estero, soprattutto i servizi tecnici, che hanno una definizione più o meno ampia a seconda della giurisdizione che ci interessa, rischiano l'applicazione di una ritenuta alla fonte, una ritenuta che può arrivare, come per esempio nel caso dell'Italia, anche addirittura al 30% a titolo di imposta, quindi poi diventa anche difficile recuperare nel caso questa imposta. Di nuovo, se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, è molto probabile che questa ritenuta venga ridotta o addirittura zerata, in essenza invece di una convenzione contro le doppie imposizioni e però la problematica della doppia imposizione rimane e quindi si rischia una ritenuta nel paese dove ho prestato il servizio e poi quando questi soldi rientrano, quando questi ricavi rientrano all'interno della giurisdizione da cui io presto la mia attività, dove ho incorporato la sede legale della mia società, e allora rischia che questi ricavi vengano tassati una seconda volta senza possibilità di evitare questo fenomeno della doppia imposizione. I paesi a tassazione territoriale, qui fai particolare attenzione perché 9 volte su 10 esentano da tassazione il reddito estero derivanti da servizi prestati all'estero, appunto, perdonami il gioco di parole, e quindi il problema sembrerebbe risolto. In realtà però, come ti dicevo all'inizio, bisogna sempre guardare al luogo in cui vengono svolte le attività produttive. Vi faccio un esempio. Nel caso dei servizi online, per esempio, non si può partire dal presupposto che Panama, piuttosto che Hong Kong, piuttosto che Singapore esentano i servizi prestati all'estero da tassazione, perché se le attività di prestazione di servizi sono da attribuire a mezzi, a risorse, a persone che praticamente agiscono dall'interno del paese, nel paese dove ho costituito la sede legale della società, e allora 9 volte su 10 quel reddito si considera prodotto anche nel paese a tassazione territoriale, nonostante poi il servizio sia stato prestato ad una persona che niente c'entra con Panama, niente c'entra con Hong Kong e niente c'entra con Singapore. Però i servizi online potrebbero essere soggetti comunque a tassazione, quindi abbiamo sfadato il primo mito che basta che in qualche modo il servizio non sia collegato, venga reso nei confronti di clienti stranieri per non essere tassato. Un'altra problematica è collegata, per esempio, invece nella compravendita di beni e commodities. Anche qui non posso partire dal presupposto che il paese a tassazione territoriale non tassi se questi beni sono spediti all'estero. Dovrò guardare perlomeno dove ho stipulato il contratto, chi è la mia controparte, dove si trovano i beni al momento dell'acquisto, quindi si trovano all'interno del paese dove ho costituito la sede legale, si trovano in un paese terzo. Di nuovo andrò a guardare che tipo di attività produttiva è svolta nel paese in cui ho incorporato la sede legale. Alcuni più furbi non mettono, come dire, creano delle scatole vuote, ma anche in questa fattispecie, soprattutto Singapore, non permette in ogni caso l'esenzione del reddito. Quindi va condotta una case by case analysis di volta in volta, perché è molto probabile che se abbiamo un minimo di attività produttiva, un minimo di attività, cioè di personale, dipendenti, risorse impiegate nello sviluppo della nostra attività, o i beni partono dalla giurisdizione in cui abbiamo incorporato la società, anche la giurisdizione a tassazione territoriale vorrà la sua fetta di tassazione.